c'è di pure valido è venuto a vedere non si è accolto che c'è una cintura al contrario no, bravo coglione coglione come dice la mano coglione bella mano bella patata l'unico frutto dell'amore io penso che qua queste gomme qua chiudi i finestrini perché ci arrivano in macchina ma porca troia ma io dico ma secondo te anche quello lì che è del posto guarda in alto e dice ma secondo te sei normale anche a star fermi si consumano con quel caldo qua lo sai si poi dopo un po' diventa cupo a questo punto speriamo che metà prova piova lo vuoi che ti dica? no? eh l'altro per forza? vabbè ancora? ti voglio bene anch'io o niente dai dai via che chi va 3 minuti cos'è che abbiamo qua? una piega se non sbaglio piega destra lunga vai vecchio oh più deciso del deciso eh va il giro a patato dai zetta bravissimo 3 2 1 via e piega destra lunga continua 40 ancora piega destra e al cartello attenzione sinistra media più non stringere media più non stringere per piega destra e dopo la piega destra vai in piega sinistra per fretta sconnessi piega destra salta attenzione sinistra media più e poi vai destra media più destra media più in 30 allo specchio molta attenzione sinistra media più vai però e poi continua credici 40 piega destra attenzione subito sinistra media poi più e vai 180 180 falli a vista alle scale attenzione piega destra credici con 40 piega destra credici con 40 e dopo questa piega destra piega sinistra poco bella lunga lunga meno meno dosala per 50 in fondo è 50 vai in lieve destra giù tutto per 50 ancora piega destra si stringe credici un po' meno 30 stacca un po' piega sinistra meno meno piega sinistra meno meno e 40 attenzione ancora piega sinistra meno secca vai e credici 50 lieve destra per 40 stacca un po' sinistra media più questa è la lieve destra stacca un po' sinistra media più in corda vai in lieve destra 40 attenzione stacca sullo sconnesso in destra media più lieve destra stacca sullo sconnesso destra media più 50 vista lieve sinistra subito attenzione destra media più lieve sinistra subito destra media più e subito ancora lieve sinistra e poi vai in lieve destra in 100 vista in fondo ai 100 piega destra con attenzione dosala quasi subito piega sinistra in corda per attenzione subito destra media più veloce vai la destra media più è veloce per 60 sinistra media più veloce credici media più veloce credici qua 50 ai jersey sinistra media poi vai 30 piega sinistra meno meno con attenzione che dietro c'è una piega destra sconnessa con attenzione piega destra sconnessa e 100 al rosso attenzione piega destra meno meno per piega sinistra piega destra meno meno qua piega sinistra in destra media più veloce per 30 stacca semi tornante destro vai ok dopo questo piega sinistra 80 in fondo piega sinistra meno meno credici con 40 questa è la piega 40 stacca un po' sinistra media più molta attenzione vai in fondo sinistra media più per piega destra vai in 80 al rosso stacca poco destra media tieni corda lunga vai qua in attenzione semi tornante sinistro semi tornante sinistro per 30 attenzione piega sinistra meno meno credici tanto tieni la corda in 90 piega destra ritardala e alla casetta diventa media più gira ritarda qua media più vai per 40 vai attenzione piega destra su dosso per ancora attenzione piega sinistra meno attenzione chiude un po' per 30 semi tornante destro semi tornante destro in 50 e dopo il 50 vai piega destra e dopo la piega destra vai piega sinistra 30 piega destra piega sinistra 30 e ancora piega destra meno meno stacca un po' per sinistra media più sul ponte attenzione sporco media più sporca sul ponte vai 50 piega sinistra meno meno sporca destra media più veloce in sinistra media più destra media più veloce sinistra media più 30 stai largo in versione destra e dopo vai, piega destra vai, piega destra per piega sinistra, schiora, giù tutto in fondo sinistra media larga, vai però in 40, ancora sinistra media più, fai attenzione, gira e dopo tieni la piega destra, meno meno tieni corda lunga, vai, piega destra meno meno tieni corda lunga per piega sinistra credici, piega sinistra credici vai piega sinistra e 40, attenzione sinistra media più, schiora, credici qua per 200 in fondo ai 200 semitornante sinistro largo la va mia, la va mia semitornante sinistro largo che si apre in 180 stai largo vai, tutto sinistra, via via, giù tutto in semitornante destro, falla in corda poi continua in piega allargati vai prendi bene la corda, vai così continuo in piega così, allargati, via piega destra, 80, attenzione sinistra media corda, non stringere attenzione media più corda, non stringere attenzione per 50 in fondo ai 50 piega sinistra con 40 dopo i 40 fai attenzione destra media più che gira tanto lì in piega sinistra, giù tutto vai, vai così piega sinistra, giù tutto 100 vai in fondo ai legni destra media più e corda larga allargati e vai per piega sinistra in fondo ai piega sinistra 30, ancora sinistra media più ma fai attenzione in due tempi e gira tanto media più in due tempi e gira tanto poi vai in 150 allargati per destra media più sfiora vai forte allargati destra media più sfiora vai forte in 100 i 100 fai la vista in fondo ai legni lieve sinistra fondi e credici qua per 150 piega destra non mollare qua in 80 non mollare piega destra 80, attenzione sinistra media più larga bravissimo gira molto attenzione 30 destra media più vai così destra media più subito piega sinistra sfiora vai, vai, vai giù tutto piega sinistra sfiora in continuo 200 a vista in fondo sinistra media più veloce meno meno in corda media più veloce meno meno in corda qua a rail in 50 dopo i 50 fai attenzione sinistra media più subito dietro sinistra media più destra media più due tempi e poi dopo il secondo tempo vai in 80 gli 80 falli a vista in fondo sinistra media più lasciala per 50 in fondo a 50 destra media più veloce vai in corda per sinistra media più veloce in due tempi Vai in corda anche lei E poi tienila che è lunga Dopo il secondo tempo 180 In fondo lieve destra Molta attenzione Sinistra media più gira in corda Lieve destra Molta attenzione Sinistra media più in corda Gira Trenta Destra media più In ancora sinistra media più gira un po' Per ancora 80 Stai largo Destra media più E poi gira Lasciala Destra media più gira Lasciala Stai largo 100 a vista Vai così Vai Allargati Piega destra Subito sinistra media più Ma fa attenzione Gira tanto Media più gira tanto la sinistra Qua rosso vai In destra media più Che gira anche lei E dopo ancora sinistra media più Gira in corda Così Gira in corda media più 40 Ancora destra media più Sfiorala Subito attenzione Sinistra media più gira un po' Subito sinistra media più Gira un po' Vai in destra media più E lasciala In piega sinistra due tempi In destra media più Subito sinistra media più Destra media più Subito sinistra media più Gira attenzione Vai gira la media più qua 30 lieve destra Dai dai 100 In fondo Attenzione Piega destra 70 In fondo è 70 Ancora Destra media più E veloce Così vai In sinistra media più Veloce in corda Ma è meno meno Vai Allargati Fala correre 50 Piega destra meno Per piega sinistra corda Vai In 30 Sinistra media più Esci forte Là in fondo Poi allargati in 100 Così cazzo Sua sinistra Piega destra forte 50 Ancora piega destra E secca Per 80 Sinistra media più Veloce sfiora Vai Media più veloce Sfiora E 50 In fondo lieve sinistra Via via Dentro Michel Muretto Destra media più E veloce Destra media più E veloce Subito piega sinistra Credici sporca Occio sporca Vai piega sinistra 70 In lieve destra E 180 In fondo è 180 Attenzione Piega sinistra Per attenzione Poi stacca un po' Destra media più Gira sul ponte I due tempi Destra media più Gira sul ponte I due tempi Poi si apre Dopo il secondo tempo E vai in 50 In fondo è 50 Semi Tornante sinistro Ritarda l'ompero Semi Tornante sinistro Qua bravo Così in 30 Lieve destra Dopo la lieve destra Fai ancora una lieve sinistra E un'altra lieve destra Su dosso Credici Per 50 Lieve destra Vai 50 Lieve sinistra E alliazze Per sinistra media più In fila Media più in fila Destra media veloce Meno meno Vai destra media veloce Meno meno Per 30 Sinistra media più Veloce cira un po' In lieve destra Vai così Lieve destra 150 Attenzione alle zebbre Semitornante destro Vai a vista Semitornante destro Per 50 Piega sinistra Credici E poi stacca un po' In destra media più in fila Stacca un po' Destra media più in fila Attenzione Semitornante sinistro Continua in piega Meno meno Vai Per piega destra Giù tutto Qua continua Vai piega destra Giù tutti in 80 Ancora lieve sinistra Dopo la lieve Fai attenzione Subito destra media più Qua dietro Poi vai ancora in sinistra Media più in corda Sinistra media più in corda Poi vai ancora in 40 E dopo ancora destra media più Qua destra media più Con 40 Vai ancora in piega destra Subito sinistra media più E lasciala Subito sinistra media più Qua lascia In piega destra In ancora lieve sinistra Lunghissime la tieni La lieve sinistra è lunga Tienila In 120 In fondo sinistra media più E veloce Qua per 40 Dopo i 40 Imposta piega destra Imposta piega destra Per stacca sinistra media più Gira Stacca sinistra media più Gira In ancora attenzione Destra media più Gira In ancora sinistra media più Gira lunga continua Sinistra media più Gira lunga continua 50 Vai lieve sinistra Continua in piega lunga lunga Tieni corda Piega sinistra Lunga lunga Tieni corda 30 Stacca un po' Attenzione Destra media più Gira qua dietro Va Destra media più Gira In ancora sinistra media più E sfiorala Vai Media più qua Sinistra sfiora Vai 30 Ancora sinistra media più Sfiora qua In ancora Semitornante Destro velocissimo Vai Così cazzo Vai che è lungo Semitornante Poi va in semitornante Sinistro tondo Dopo semitornante Sinistro tondo Vai in piega destra Chiude un po' Vai chiude un po' La piega destra Per piega sinistra Vai dentro in piega sinistra 40 Sempre semitornante Sinistro Vai qua In destra media più E sfiorala Così Stefano Destra media più Sfiora In sinistra media più In ancora piega destra In ancora piega sinistra In ancora piega destra In inversione destra E 50 Grandissimo Grande 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 Così via pulito Vai Piega sinistra In destra media più Taglia 11.02 11.03 11.04 Vai Bravo 40 secondi in meno Bravo Bravo Che numeri vecchio Figa però se la fai correre Fa della strada Eh beh Ci hanno difesi? Sì Mi sa di sì Qualcosa Grazie a tutti Grazie a tutti